Infila il microfono nel buco della cassa Cosa devo infilare? Metta a posto la candela Bene Puoi aprire le tende se vuoi Bene Apriamo le tende Fa da se, scusate 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!